Una festa nel cuore del quartiere, un vero e proprio spettacolo tra musica, danza e recitazione messo in scena dall'Istituto Leonardo da Vinci di Pistoia con Ciak si gira. È accaduto in piazza Nelson Mandela, le fornaci a Pistoia in occasione dell'evento di fine anno di tutte le scuole del comprensivo, dall'infanzia alle secondarie. È un momento per noi importante perché abbiamo voluto chiudere l'anno scolastico con una festa fatta in un luogo pubblico, un luogo che insiste sul quartiere, la piazza Nelson Mandela. Per noi questo evento è un momento di chiusura, un momento di festa, che vede la scuola non chiusa nelle aule didattiche ma che si apre al suo territorio. Eventi di musica, eventi di danza, eventi di teatro e coinvolge l'intero istituto partendo dai piccoli dei cinque anni alle quinte della scuola primaria e a tutta la scuola secondaria. La cosa a cui tengo di più è il fatto che questi ragazzi l'hanno vissuta con grande gioia, grande partecipazione ed è un modo per tenerli insieme, per fargli capire che la vita va vissuta così, cioè con le emozioni e col fatto che quando ci troviamo tutti insieme di fronte a un pubblico esprimendo noi stessi attraverso la musica possiamo veramente cambiare tante cose anche del mondo che ci circonda secondo me perché è un messaggio importante che possiamo mandare a tutti. La scuola è un luogo dell'inclusione dove vengono valorizzate le potenzialità e i valori di tutti gli studenti andando a intercertare non solo saperi ma anche veri talenti. Grazie. 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 Grazie.